tennista, tennista e interista, interista, d'obbligo, puoi fare anche il tendista, ho tagliato il prosciutto, ma come hai fatto a tagliare così, almeno ne ho fatta una senza che sto fare tante fette, questo è tutto scello, non va bene, manglila tu, è un po' spessa, c'ha ragione e volentieri anche, dai manglila tutto, manglila, porca, 30 gradi fuori ma sta nevicando, incredibile, guardate come nevica, anche se ne ha mangiato un pochino, riaprono tutti gli impianti scistici da Courmayer, Madonna di Campiglio, Cortina da un pezzo, incredibile, sta nevicando, Selva di Valgardena, nevicato, incredibile, nevicato, incredibile, sta nevicando, sta nevicando, no, 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 calma, per il dispetto su, no, dietro per per te no, 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 no vedi quanto è cattivo fa, è cattivissimo, eh ma c'è ragione no